Il tema della competizione artistica è la salvaguardia delle tartarughe marine, iscrizione aperte fino al 10 maggio, riparte così con la sua settima edizione Tartarugando. La salvaguardia delle tartarughe marine è il concorso per i disegni, fumetti e illustrazioni promosso dal Museo Vivo del Mare di Pioppi con Lega Ambiente e del Comune di Pollica con il patrocinio della Regione Campania. Tartarugando è un concorso di disegno per sensibilizzare le nuove generazioni alla protezione delle tartarughe marine, un patrimonio sempre più a rischio. La partecipazione è libera e gratuita, è aperta a tutti gli studenti di scuola primaria e secondaria, di primo grado e degli istituti scolastici della Campania che possono iscriversi singolarmente in gruppi o classi. L'elaborato deve essere inedito e può essere realizzato con diverse tecniche di disegno, matite, tempere, acquerelli o digital paint. In palio 10 borse di studio da 100 euro cada una per i primi 5 classificati delle scuole primarie e secondarie. La scadenza per la consegna è il 10 maggio 2018.